geremia turston ha creato da solo un impero finanziario diventando uno degli uomini più ricchi d'america quando sposa la giovanissima e seducente camille non cerca solo l'amore ma una donna con cui fondare una grande potente dinastia per lei e per gli eredi fa costruire un palazzo principesco e si trasformerà invece in un monumento alle speranze perdute e ai sogni infranti in cui generazione dopo generazione ci si chiederà troppo spesso se il denaro possa davvero comprare la felicità